ciao a tutti ragazzi sono Mario Zico sono le 5 e mezza del mattino ci stiamo preparando con i miei amichetti cioè preparando uno dorme uno ce l'ho qua in camera che adesso vi faccio vedere intanto dietro di me c'è la Sabri sto guardando un video della Sabri sto preparando la vendigia adesso vi faccio vedere un attimino sto preparando la valigia valigia preparerò questo zainetto perché andremo un fine settimana con lui Rebecca che è sopra a dormire e mi porterò solo un paio di pantaloni costume due tre magliettine questo qui che poi scoprirete cosa serviranno e vado a intanto qua vedete c'è la Sabri che io mi sto guardando un video vecchio e andremo un attimino che rigiro la telecamera e andremo a rimini a fare un fine settimana con i miei amichetti tanto vi faccio vedere una panorama che è camera mia adesso vado a farmi la doccia poi dopo la doccia ci rivediamo e facciamo la valigia insieme a dopo bene ho appena finito di farmi la doccia adesso preparo la valigia fra qualche clip se mi ricorderò e aspetto che massimo si faccia anche la doccia poi vado a chiamare a quell'altro su il mansard che sta dormendo ancora che alle sette abbiamo la corriere per andare a reggio che ci aspetta il treno che ce l'abbiamo alle 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 9 meno un quarto abbiamo il treno che parte da dare reggio per andare a rimini poi lì incontrerò una persona finalmente dopo quattro anni che la seguo ci vediamo dopo per un aggiornamento ciao per lì siamo in partenza stiamo andando a prendere la ghiera e si andando la dietro c'è un'altra persona può salutare lei da lì sotto scusi lei può salutare da lì sotto siamo tre naufraghi stiamo partendo stiamo andando a rimini dopo tanti anni siamo riusciti a organizzare una vacanza insieme e ci stiamo andando ci vediamo più avanti per aggiornamenti ciao per lì c'è il papà della situazione siamo alla fermata dell'autobus con due estranei abbiamo il nonno della situazione il nonno poi abbiamo il fanciulla non ti puoi nascondere davanti al palo non ti puoi nascondere ci si vede la stessa stiamo aspettando la corriera ecco questo succede a svegliarsi presto la mattina come svegliarsi così presto la mattina come a me è stato ormai abituato la gente fa lividi del tempo come ecco abbiamo organizzato un fine settimana e abbiamo un fine settimana di merda fai ragazzo le siamo a regge stiamo andando a i Beh ragazzuoli siamo a Reggio e stiamo andando alla stazione dei treni Questo effetto qua è perché ha dormito due ore Io non ho dormito Quello dietro di me non ha dormito Lui ha dormito due ore e guarda come è componato Dai i numeri Se vuoi dormire che è sulla corriera Eh si è fatto mezz'oretta sulla corriera Se no lo chiamavamo si faceva il viaggio unico Oh davvero dietro a metà a Rima No non andava a Rima, non tornava a casa Mo andiamo a fare i biglietti del treno Abbiamo il treno A che ora è il treno? No meno un quarto 8 e 45 8 e 45, non meno un quarto Poi ci vediamo sul treno Ciao ragazzuoli Pupu Buoi ragazzuoli siamo arrivati a Rimini Dopo tre ore di viaggio siamo arrivati Non è vero Com'è? No Ma lei ha dormito vero? Io no Abbiamo le prove No Sì Però che abbiamo le prove Massimo Dormito abbiamo le prove Adesso ci facciamo una bella camminata Avete cagato il cavolo Cosa? Avete cagato il cavolo Che ti cagato Ma cacca No cacca Siamo un sacco bravi noi Tu bravi bravi Tu Proprio tu Che l'hai riempito di foto Ma che fontane che ci sono No questa è la tua piscina Fagli vedere il video Fagli vedere il prossimo Questa è la piscina di Massimo Vanno vicino faccio vedere Luca lo No No Vediamo com'è Adesso ci facciamo una passeggiatina Di circa una mezz'oretta Per andare in hotel Ci vediamo appena arriviamo in hotel Mi faccio vedere la stanza Saluti lei Siamo arrivati in hotel Abbiamo la chiave Abbiamo la chiave Stiamo andando in camera Sesto piano Dove? Sesto piano Andiamo andiamo E ciò Questa è la nostra camera Appena entri Si vede questo Ma io vi porto prima di qua C'è un bagno Bidet Bagno Lavandino Questo sono io Una doccia bella grande Poi usciamo dal bagnetto C'è l'uomone nero Facciamo la prova letto Sì dai Scusi Mi può tenere il telefono Verso di me Grazie Devo fare la prova letto Devo fare la prova letto La faccio da solo La prova letto Aspetta che mi sposto anche questa Se no la rompiamo Mi riesci a riprendersi? Sì tranquillo No è adesso lo devo fare Perché devo aprire le mani Sennò la armazzo Perché devo provare il mio Ma prova il tuo Ma è il putt tuo Mamma mia che potta Mamma mia È comodo Porca puttata Mamma mia Mi sentito vuoto Poi sentito il legno Ah no vi porto fuori Vi porto fuori Vi porto fuori Perché fuori c'è ancora tanta roba Poi abbiamo questa terrazza Si esce Due sedioline Tavoline Dove passeremo le serate A parlare Questa è la vista dell'hotel Bellissima Poi giriamo di qua Una sedia a sdraio Un'altra sedia a sdraio E poi abbiamo la nostra vaschina Qua all'idromassaggio Dove passeremo le nottate Adesso vi saluto Ci vediamo dopo Vi faccio salutare dai ragazzi Ragazzi Ma scusi È arrivato il mio amico lì giù Guardi che è arrivato Questa è la casa di Massimo Questi sono gli amici di Massimo Beh ragazzi Abbiamo detto che ce l'avamo riposare un po' Ma io e Luca non resistiamo Andiamo a fare un bagno Non buttate fuori tutta l'acqua eh E quello succede Perché è piena l'acqua E sai che è fredda però sai? No Ah Sì? No? Deciditi Sono delle mole che dall'altra parte Ah ah Dove esce? Ma che stacchio Vabbè se c'era una cosa qua C'era il buco qua Guarda c'è lo scollo qua E' proprio davanti c'è lo scollo E' qui davanti E' qui davanti Oh mamma bello Oh mamma bello Passimo Comprate il costume Muoviti Eh oggi quando Perché io penso che da qua non riesce più Dopo quando andremo giù Andiamo a prendere Ma dovrei andare a mangiare dopo Ah non lo so sai Ma se mi faccio il Il pesce lesso Io vengo qua Ma che cosa c'è su questino ma? Gli ho accesi Ma tutti Gli hanno troppo attire Qua si ce l'ho accesi Sì sì Gli hanno partire pieno pieno tutti Oh mamma mia Ah è una goduria Ci vediamo dopo Ciao Questa è la zappa Questa è la zappa